Sapete meglio di me quanto si sente parlare di crisi dei negozi tradizionali. Che cosa succede? Succede che aziende come Amazon, non so se avete presente quell'azienda dove si può comprare online, aziende come queste secondo alcuni punti di vista schiacciano, distruggono completamente il mercato. Al di là del fatto che io credo che in parte sia vero, nel senso che sono enormi cannibali che appunto cannibalizzano parte del mercato, penso anche che ci diano stimoli a fare cose che non abbiamo mai fatto prima. Faccio un esempio banalissimo. I nostri centri storici. I nostri centri storici sono stati violentati per anni da attività che non centravano assolutamente niente con i centri storici. Non voglio parlare male di banche, ma sapete che spesso i centri storici, in particolare nelle province, sono stati invasi da banche. Perché? Perché erano le aziende che avevano più soldi e che si potevano per mettere ampi spazi nel centro storico. Quindi più soldi, più prestigio. A me va benissimo questo. Ma qual è il problema? Il problema è che in questo modo un centro storico muore. Tende a svuotarsi la sera. Non è più un luogo di aggregazione. Quindi che cosa fare? Ci si lamenta del fatto, per esempio, che i negozi nei centri storici chiudano. Probabilmente sì. Probabilmente la direzione è questa. Non dico che sia bello o brutto. Sto dicendo che le persone comprano sempre di più online. E ho sempre sostenuto che anche i piccoli negozi devono essere estremamente specializzati, estremamente verticali. Dare un'esperienza alle persone che entrano, che può essere umana, che può essere di prodotto, di percorso, ma devono dare qualcosa di particolare. E poi, perché no, anche vendere online i propri prodotti. Perché se io ho già comprato da te so come mi trovo, semmai il giorno che non ho voglia di tornare da te posso comprare le tue cose online. Ma non solo. C'è un'altra cosa importantissima. Una cosa importantissima che potrebbe, secondo me, rivalutare sia i centri storici che il commercio. Noi abbiamo bisogno di luoghi e di attività che implichino fisicità. Un paio di scarpe, un maglione, io lo posso comprare online. Mentre invece il gelato lo posso mangiare solo fisicamente. Non posso... posso comprarlo online, certo, ma non posso farlo mangiare online. Lo devo mangiare io. Il gelato, la pizza, io la devo mangiare in un posto. Può essere a casa mia o può essere in un luogo. Ma la devo mangiare fisicamente, capite cosa intendo. Quindi cosa succede? Che se i centri storici abbandonassero un po' l'idea del negozio a 360 gradi e diventassero luoghi di convivialità. Quindi tutte le attività che necessitano di fisicità presente. Per esempio, la pizzeria, la gelateria, il bar, l'enoteca, ma non solo. La palestra, i centri estetici. Se io voglio fare una lampada o voglio farmi le unghie, perché devo andare in un centro commerciale? Quando posso andare in un centro storico? Tutti i luoghi che necessitano di una fisicità presente, secondo me dovrebbero essere riportati all'interno dei centri storici. Quindi tutto quello che è la convivialità, che secondo me, ripeto, sta tornando di gran moda, deve essere migrato verso i centri delle nostre bellissime città. In centro si va a vivere. Rock'n'roll. Rock'n'roll 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 Rock'n'roll